Applausi scroscianti per l'inno di Mameli eseguito dal coro e dall'orchestra del Conservatorio Perosi, che è aperto, e non poteva essere altrimenti, la giornata commemorativa sulla Prima Guerra Mondiale a Campobasso. Una lunga mattinata, quella al Teatro Savoia, celebrata al cospetto delle più alte autorità civili, militari e religiose. Molise e Abruzzo tornano ad affiancarsi nell'organizzazione di un evento importante, testimoniato dalla platea del teatro, gremita di un pubblico attento e coinvolto, così come ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Niro, che ha aperto le celebrazioni. È un momento di memoria e musica, ha detto Niro, celebrazione al plurale perché il nostro ritrovarsi non è un'occasione isolata, ma ci affianca ad altre iniziative regionali. Tanti i ringraziamenti pronunciati da Niro, dai politici alle associazioni combattentistiche presenti, dall'Università ai musicisti del Perosi, ma su tutte spicca quella ai nostri vicini di casa abruzzesi. Condividiamo una giornata in nome di un antico legame politico e geografico, ha aggiunto Niro, parole sottolineate anche da Giuseppe Di Pangrazio, Presidente del Consiglio regionale abruzzese. Oggi Molise e Abruzzo, collaborando, dimostrano non solo di ricordare, ma vogliono dare risposte al bisogno di pace che il mondo chiede. Ai saluti istituzionali degli esponenti della politica molisana, delle associazioni d'arma e della Croce Rossa, è seguita la tavola rotonda di alcuni professori delle università. Abruzzo e Molise nella Grande Guerra, l'Italia chiamò, questo è il tema degli interventi esposti. L'orchestra del Perosi si è esibita in inni e brani scelti appositamente per l'occasione, offrendo al pubblico campobassano momenti di grande commozione. La mattinata al Savoia si è conclusa con le parole del governatore Frattura e del sottosegretario alla difesa Gioacchino Alfano, chiamato a rappresentare il Ministero che ha patrocinato l'iniziativa. La giornata dedicata ai cento anni dall'entrata in guerra dell'Italia è proseguita con il minuto di silenzio davanti al monumento ai caduti del capoluogo e con le deposizioni di una salva d'onore eseguita dai carabinieri insieme ad una stella alpina realizzata dagli alunni della Scuola Montini di Campobasso.